Buona e santa giornata a tutti, buon venerdì e bentrovati. L'emozione parte già da questa mattina perché per la primissima volta sarò a Reggio Calabria e so che a Reggio Calabria ci sono tanti amici, tante amiche della grande famiglia che saranno lì nella libreria San Paolo vicino al Duomo di Reggio Calabria in via Tommaso Campanella per la presentazione del mio libro Lo sguardo di Gesù, pagina di misericordia a partire dalle 17.30. Se ci sarà una buona connessione noi faremo anche la diretta sul canale YouTube Don Francesco e Cristoforo, quindi vi invito a sintonizzarvi. Adesso non so se inizieremo proprio alle 17.30, se inizieremo con qualche minuto di ritardo. Voi state lì, appena sarà live, se ci sarà potete seguire. Vogliamo affidare al Signore questa giornata. Oggi il Vangelo ci dice una parola bellissima, anzi vi invito anche poi a cercarlo sul mio canale YouTube ad ascoltarlo, la mia casa sarà casa di preghiera. Anche il nostro corpo è Tempio di Dio e quindi noi dobbiamo fare del nostro corpo, delle nostre mani, del nostro cuore, della nostra mente una preghiera vivente. Pensate uno che usa le mani per fare il bene, che grande preghiera. Pensate uno che usa il cuore solo per amare e toglie l'odio e il rancore, che grande preghiera. Pensate uno che usa i piedi per portare la pace, per portare la speranza, per portare il Vangelo, che grande preghiera. Sì, la preghiera è anche quella che noi facciamo in Chiesa, durante il Rosario, durante i Vespri, durante le Lodi, durante la Messa, ma la preghiera più bella è quella che facciamo ogni giorno con la nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E allora, a chi ci sarà, io vi aspetto alle 17.30, Libreria Paoline, Reggio Calabria, Via Tommaso Campanella, vicino il Grande Duomo. Un bacio forte a tutti, vi voglio bene.